Ed ecco finalmente la novità assoluta di Francesco quando a Verona la suonarono per la prima volta il doppio a sei campane, doppio a sei campane, UCB al completo la novità assoluta di Francesco quando a Verona la suonarono per la prima volta la novità assoluta di Francesco quando a Verona la suonarono per la prima volta la novità assoluta di Francesco quando a Verona la suonarono per la prima volta la novità assoluta di Francesco quando a Verona la suonarono per la prima volta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proprio veramente bravi. Il doppio a sei campane è la fine del mondo. Bene. E con questo penso che veramente abbiamo messo la parola sine su questa 59esima edizione. Io direi che può anche bastare. Non è detto, però... Allora, il sole oggi regge, però fortunatamente è una giornata più bella di ieri e direi che ci possiamo essere. Partono con un'altra suonata. E va bene, sentiamola. Allora, anche se non c'è un po' di disini. Allora, come se non c'è? Allora, come se non c'è? Allora. E andate? Allora. le tirate basse a 5 campane la 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.